Il Consiglio regionale del Piemonte è riconosciuto come esempio di eccellenza e sperimentazione a livello nazionale sul fronte del digitale e della trasparenza verso i cittadini. Entro novembre anche i gruppi consigliari avranno un loro sito internet autonomo all'interno del dominio dell'ente. L'iniziativa si inserisce nel pacchetto di strumenti professionali offerti ai consiglieri per la loro attività istituzionale, dopo l'abolizione del contributo di funzionamento.